Ed ecco il secondo giro del Carnevale di Fano e quello del Getto Quante caramelle ha tirato fino adesso? Allora io ho tre casse, quindi penso più o meno, non so quante caramelle contiene ogni cassa Però sono tre casse di caramelle e cioccolata Questo è il secondo giro Questo è il secondo giro, abbiamo quasi finito, abbiamo tirato tutto Ancora poca, siamo appena arrivati, però speriamo di riempirlo, è bel grosso Giro di ritorno ormai È ancora un po' magro, magrissimo, ma lo ingrasseremo sicuramente Per ora è ancora poca Aspetta un po' il giro di ritorno Sì Guarda! Dai, voglio dire che è già un po' lì I bambini si divertono Da dove viene? Da Urbino Quanta cioccolata avete preso? Un sacco Però ancora il cono non è ancora tutto pieno Ci vuole, ci vuole Quindi giro di ritorno? Ah certo Stai mangiando Vestiti da? Cardinale e suora Poca Come mai così poca? Eh perché abbiamo provato a prendere un ceto gigante ma ha rovesciato tutto Sfortunati, sfortunati Adesso ci rifaremo Stavamo con che riprendere Non ci abbiamo niente Abbiamo provato la sciarpa ma non veniva Va bene, quindi ha fatto anche centro È più efficace del cono È vero Anche ancora È andata un po' magra il giro Ma noi mangiamo a casa Ci rifarete nel secondo giro allora Eh sì, adesso aspettiamo La cioccolata raccolta Eh parecchia Ho finito a Piazza San Pietro e sono venuto qui Vediamo, vediamo, vediamo un po' il raccolto Ciao